Ciao a tutti e benvenuti nella libreria Booklet di Gattiomare per la classifica dei 10 libri più venduti. Ce l'ho qui, risa tantissimo e iniziamo subito col decimo posto perché c'è una nuova entrata, Murakami, prima persona singolare. Al nonno posto troviamo ancora una volta Cambiare l'acqua e fiori di Varellupia. Al nonno posto scende Stephen King, Leter. Al settimo posto troviamo Carlo Verdone, la carezza della memoria. Sampa, madre amorosa e crudele di Fabio Pantelli e Anibaldi. Al sesto posto, al quinto posto finché il caffè è caldo di Tosicasi Cavacucchi. Al quarto posto, Gianrico Carofiglio, la disciplina di Penelope. Si conferma anche Lion, le storie del quartiere. Al terzo posto scende invece al secondo, Alessandro Salusso, intervista Luca Palamara, il sistema. E al primo posto, il teramugia con Stai Zitta e le altre nove frasi che non vogliamo sentire più. Questa era la classifica, noi ci vediamo sabato prossimo con la libreria Buche di Ghecchiomale e con la classifica dei libri più venuti. Ciao, a presto, venite a trovarci in libreria per condividere insieme le nostre mostri di carta e fare tante chiacchiere librose che a noi ci piacciono tanto. Ciao, a presto, ciao! Ciao, a presto!